Si chiama Taylor Ren Parker, è una donna di 29 anni d'età, la quale pensate che avrebbe ucciso, avrebbe fatto fuori una donna incinta e le avrebbe strappato il feto da dosso. Sarebbe arrivata la condanna nei confronti di questa donna, protagonista di un omicidio devastante, la donna che ha fatto fuori si chiamava Reagan Mitchell Simon Sankuk, di 21 anni d'età, giovanissima. La bambina che aveva in Gambo ovviamente è stata portata via quindi alla vita a New Boston, era il 2020, adesso potrebbe rischiare una condanna a morte, anche se le tesi difensive stanno cercando di arginare il danno e portare la donna a ottenere un ergassolo, ossia un carcere a vita. L'omega donna avrebbe compiuto il videomicidio pur avendo, diciamo così, riflettuto bene portando via il feto della donna in questione, perché l'ha fatto secondo quello che è riportato sul web, perché la donna non poteva avere figli e voleva un figlio a tutti i costi. Adesso bisognerà cercare di capire quello che accadrà in futuro, anche se la difesa ha cercato e vuole ottenere il ergassolo, però rischia seriamente parlando una condanna a morte. Da narratore italiano è tutto, ciao a tutti.